Trasferta positiva per la Trevigiani Dynamo Bottoli in terra toscana a Lamporecchio in provincia di Pistoia dove si correva il 51esimo Gran Premio Poggio alla Cavalla. Si correva sul circuito di tre comuni per complessivi 98 chilometri e 600 metri e la formazione di patron Remo Mosole di Angelo Bottoli ha sempre controllato la corsa per sganciare. Poi nel finale il veronese di Vigasio Michele Scartezzini che si presentava sul rettilineo conclusivo con qualche metro di vantaggio sugli inseguitori e conteneva il ritorno e vinceva davanti a Bellini, Gasparini, Delcol, Fruini, Tommassini, Bucci, Krivoshev, Saldamarco e Annichini al decimo posto. Siamo con il vincitore Michele Scartezzini. Michele, una vittoria un po' inaspettata. Siamo sentiti questa mattina e avevi detto non so cosa riuscirò a fare e poi sei riuscito a vincere. Sì esatto, questa mattina su Facebook ci eravamo sentiti, però eravamo venuti qua con la squadra per puntare sui due velocisti, Gasparini e Delcol, però oggi la mia vittoria è stata inaspettata, non ci credevo neanche io fino agli ultimi 50 metri e abbiamo lavorato veramente bene in questa gara oggi con la squadra. Ho avuto questo colpo di mano all'ultimo chilometro, c'è stata anche una caduta, però noi non siamo rimasti coinvolti. Benedetti ha anticipato all'ultimo chilometro, Mercatale ha fatto un'azione simile. Non mi sono fatto sorprendere, ero già in testa del mio treno all'ultimo chilometro, sono partito deciso. Ho avuto un gran zuppa che mi ha fatto un po' il buco, però io a testa bassa ho tenuto duro fino qua sotto l'arrivo e diciamo è stato proprio inaspettato. Devo ringraziare veramente tanto la squadra.